che ne sai straordinario album in formato cd contiene libretto con i testi fantastico centrino guardate che bellezza che splendore cari fan ammirate i nomi delle canzoni che ne sai che amore vuoi che sia ricominciare giorno magico non mi lasciare festa bella o bello chissà pace anche di questo come nel caso di compagnia è raro trovarlo in formato cd però se lo volete potete trovarlo si be e se lo trovate compratelo non fatevelo scappare